Siamo a Genova per il congresso Macula in Liguria, un importante appuntamento annuale di oftalmologia. Facciamo il punto sulle malattie degenerative e vascolari della macula che sono tra le principali cause di grave riduzione della funzione visiva centrale e in alcuni casi possono anche portare a cecità. Per fortuna la ricerca ha fatto enormi passi in avanti e ulteriori novità sono in arrivo. Ne parliamo con il professor Bassimo Nicolò, direttore scientifico dell'evento. Professor Nicolò, allora col suo aiuto vorrei fare il punto sulle maculopatie. Due parole su che cos'è la macula e soprattutto come mai sono diventate così importanti se ne parla così tanto. Dunque, la macula è il centro della retina. È retina, è la parte centrale, è la parte su cui i raggi luminosi vengono messi a fuoco ed è la parte più nobile della retina. Con la macula noi facciamo tutte le attività che portano ad una alta definizione dell'immagine. Leggiamo, scriviamo, riconosciamo i colori, il volto delle persone, facciamo tutte le attività visive più fini, più ad alta risoluzione. Per cui chi soffre di maculopatia nelle fasi molto avanzate ha un deterioramento della visione centrale, perde la capacità di scrivere, di riconoscere il volto delle persone, di riconoscere i soldi, di versare l'acqua nel bicchiere, di infilare la chiave nella serratura. Perché oggi si parla tanto di maculopatie? Sembra che sia diventata un'epidemia, assolutamente no. Sono molto più frequenti, certamente perché si invecchia di più e tendenzialmente sono patologie correlate un po' all'invecchiamento. Ma se ne parla tanto anche perché oggi una buona parte di queste, purtroppo non tutte, ma una buona parte di queste, le forme umide e sudative si riescono a curare in modo molto efficace con i farmaci che noi abitualmente iniettiamo dentro l'occhio sotto forma di iniezioni proprio intraoculari. Ai farmaci ci arriviamo subito. Ancora una cosa sulla macula. Ma le cellule della macula non si possono rigenerare come accade per tante altre cellule del nostro organismo. Una volta danneggiate, che cosa succede? Dunque, parliamo di tessuto di origine nervosa, parliamo di tessuto nervoso. E il tessuto nervoso, come sappiamo, difficilmente si riesce a rigenerare, tanto più che la retina è una struttura, per quanto molto sottile, estremamente complessa, costituita da tanti strati molto ordinati di cellule di diverso tipo, tantissime, di origine imbriologica diversa. Per cui riuscire a andare in conto ad una rigenerazione molto spesso è impossibile. Quindi meglio prevenire queste lesioni o comunque curarle il più presto possibile. Allora, ricominciamo con questa breve carrellata delle maculopatie. Incominciamo da quella più frequente, quindi la degenerazione maculare legata all'età, che esiste in due forme. Ecco, ci spieghi velocemente di che cosa si tratta e poi soprattutto quali sono le cure oggi disponibili. Dunque, la degenerazione maculare legata all'età, come lei ha accennato, ne conosciamo di due tipi. La cosiddetta forma secca, atrofica, e la invece la forma umida o essudativa. La prima al momento, ma soltanto al momento, perché oggi poi ne parleremo, ci sono anche delle novità per la forma atrofica. Comunque diciamo che fino ad oggi non si può curare. Ma in futuro, nel futuro, nel medio termine, invece, avremo delle cure anche per quella. Viceversa, per la forma umida e essudativa, ci sono delle cure, ormai da 15 anni, in commercio, in tutto il mondo, che hanno dimostrato una efficacia elevatissima nel preservare la funzione visiva e se si riesce a individuare precocemente la maculopatia essudativa, di andare in conto ad un miglioramento dell'acuità visiva. Quindi si recupera? Si recupera, è chiaro che dipende dallo stadio in cui si interviene, come in tutte le patologie. Cos'è che causa questa degenerazione maculare legata all'età? L'età d'accordo, ma cosa succede? Ci sono tanti fattori. È una patologia multifattoriale, degenerativa, dove il fenomeno dell'invecchiamento, della senescenza, della ridotta disponibilità di ossigeno al tessuto retinico, quindi da ipossia, sono dei fattori chiave che con l'invecchiamento inevitabilmente si vengono a verificare. Poi è chiaro che conta le esposizioni alle radiazioni ultraviolette, la nutrizione, l'aspetto anche genetico, è una componente. Tutti insieme, queste componenti, possono portare ad un invecchiamento precoce non tanto della retina in sé, quanto dello strato che sta sotto la retina, che è l'epitelio pigmentato retinico, che è un monostrato di cellule epiteliali fondamentale per la sopravvivenza e per il nutrimento della retina. Umida cosa vuol dire, professore? Umida vuol dire che per fenomeni di ridotto approvvigionamento di ossigeno, il nostro corpo umano tende a ricavarselo da solo l'ossigeno, producendo dei nuovi vasi. Quindi anche a livello retinico, quando si vengono a creare delle condizioni di ipossia, cioè di riduzione della concentrazione di ossigeno, si innesca uno stimolo, vengono prodotte proteine che inducono la produzione di nuovi vasi, neovasi, angiogenesi, che sono estremamente dannosi perché non portano ossigeno, creano molti danni perché sono vasi fragili, molto permeabili, che innescano esattamente quello che succede quando noi ci tagliamo la pelle, un processo di riparazione tessutale, che se noi non riusciamo a interrompere porta ad una cicatrice, che è definitiva. Certo, allora veniamo ai farmaci, che lei ci ha detto di essere molto efficaci, quali sono, almeno quelli principali, come agiscono? Allora, il farmaco, il meccanismo d'azione principale è storicamente, e ancora adesso, quello di andare ad inibire la molecola che più di tutto è coinvolta nella angiogenesi, che è il VEGF, il fattore di crescita dell'endotelio vascolare. Quindi sono tutti farmaci che vengono definiti anti-VEGF e da sempre li utilizziamo. Il primo storico è stato Ranibizumab, poi abbiamo la Flibercept, poi adesso abbiamo il Brolucizumab, che hanno tutto un target prevalentemente diretto sull'anti-VEGF. La sfida qual è? È quella di andare a individuare farmaci che abbiano anche altri target, oltre ovviamente il VEGF. E qui ne parleremo adesso in un simposio, avremo a breve una nuova molecola che è il Faricimab, che oltre ad avere come target il VEGF, quindi è un anti-VEGF, ma anche come target un'altra molecola importante per lo sviluppo e il mantenimento dei neovasi, che si chiama angiopoietina. Per cui per la prima volta avremo un farmaco che avrà una doppia azione, che si manifesta poi nella pratica clinica di tutti i giorni con una riduzione nella frequenza di somministrazione del farmaco, a parità di efficacia ovviamente, che è un target, un obiettivo molto importante. Perché appunto quante volte vanno somministrati questi farmaci e appunto qual è stata l'evoluzione? Diciamo che fino a ieri il numero magico nel primo anno di terapia è sette iniezioni, mediamente. In Italia onestamente noi non riusciamo ad arrivare a questi numeri, non ci riusciamo per tanti motivi, motivi organizzativi, gestionali, motivi di costi anche, per cui l'obiettivo è trovare delle molecole che a parità di efficacia, magari anche qualche cosa di più, si riescano a somministrare meno frequentemente. E questo è un po' il target nello sviluppo delle nuove molecole. E in questo il faricimab sta dando dei buoni risultati e in Italia dovremmo iniziare a usarlo molto a breve. Professore, lei accennava alle possibili nuove cure in arrivo per la degenerazione maculare legata all'età nella sua forma secca, nella sua forma atrofica. Di cosa si tratta, professore? Ma dunque, questa è una sorta di novità che abbiamo e che a breve, nei prossimi mesi, potremmo utilizzare anche nelle forme atrofiche di maculopatia. È importante però capire l'obiettivo. L'obiettivo non è, in questo caso, di migliorare la vista nelle forme atrofiche, ma è quello di rallentarne la progressione. È importante che chi ci ascolta capisca questo messaggio. Abbiamo una nuova molecola che si chiama PEG-Cetacoplan, un nome complesso, come un po' tutti i nomi di queste molecole, che si somministra anche in questo caso mediante delle iniezioni intravitriali, che ha dato degli ottimi risultati in termini di rallentamento della progressione. Di questo oggi ne parleremo ampiamente e quindi, insomma, ci sono molte aspettative. È già provato in Italia o lo sarà breve? Lo sarà breve. Senta, voltiamo pagina, passiamo invece all'altra grande patologia, appunto, di persone che poi affollano i vostri studi, che è quella dell'edema maculare diabetico. Due parole sulla patologia e anche qui sono gli stessi farmaci di prima oppure ce ne sono degli altri? Dunque, sull'edema maculare diabetico, sì, diciamo che è una complicanza del diabete e di quella che è la complicanza più generale, che è la retinopatia diabetica, che oggi sempre più spesso si focalizza in particolare a livello dell'amacula, determinando un gonfiore, che noi chiamiamo edema. Come la curiamo? La curiamo certamente con il farmaci anti-VGF, certamente con quindi gli stessi che utilizziamo per la degenerazione maculare legata all'età di tipo studativo, ma non solo, abbiamo un'arma in più che sono gli steroidi, il cortisone. Il cortisone perché? Perché l'edema maculare diabetico ha anche una spiccata patogenesi infiammatoria e quindi abbiamo visto, gli studi registrativi hanno dimostrato che la somministrazione di desametasone all'entorilascio, per esempio, è molto efficace nella regressione dell'edema maculare diabetico, tanto più che è all'entorilascio e dura quindi 4-5 mesi, per arrivare anche ad altri derivati del cortisone, tipo il fluocinolinoacitonide, che dura fino a tre anni. Per cui abbiamo una possibilità farmacologica molto più ampia in questo caso. Senta, maculopatia ce ne sono tante altre, mi concentrerei come ultima sul capitolo delle maculopatie che colpiscono le persone miopi, quindi una maculopatia a questo punto non più legata all'età, ma legata invece alla patologia sostostante. Di cosa si tratta anche qui e quali sono le cure possibili? Dunque, le maculopatie miopiche sono una conseguenza della miopia elevata. La miopia che cosa porta? Porta ad un allungamento del bulbo culare. Questo innesca tutta una serie di meccanismi di stiramento, soprattutto della parte più posteriore della retina e quindi della macula, che non infrequentemente portano, anche in questo caso, alla proliferazione di nuovi vasi. Spesso a essere colpiti non sono tanto gli anziani quanto i soggetti giovani, per cui è una malattia che ha una importanza sociale forse ancora più importante, perché comunque colpisce un soggetto molto spesso ancora pieno della sua attività lavorativa, magari anche degli studenti. Anche in questo caso abbiamo i farmaci anti-VGF, i soliti che utilizziamo per le altre forme, sono efficaci anche in questo, sono ancora molto più efficaci. Le forme miopiche in linea generale rispondono molto meglio. Volevo chiedere un messaggio finale ai cittadini, magari anche al medico di famiglia, sul tema della prevenzione, dei fattori di rischio, soprattutto ricollegandomi alla degenerazione maculare legata a letale nella sua forma umida, che ha una progressione rapidissima. Però ci spieghi lei appunto a che cosa far attenzione? Ma in questo caso, nel caso delle maculopatie in generale, quello che è importante, il messaggio che è importante è la prevenzione. Qui purtroppo noi non abbiamo nessun modo per prevenire la formazione dei nuovi vasi, però possiamo individuare precocemente quelli che sono i fattori di rischio e spesso e volentieri i fattori di rischio non sono ancora sintomatici, per cui la cosa importante è che dopo i 50 anni eseguire una visita oculistica approfondita con l'esame della retina ed eventualmente associato, ma sempre nell'ambito di una visita oculistica, ad un esame strumentale che si chiama OCT, perché questo ci dà l'idea di quelli che possono essere i primi segni, che sono dei fattori di rischio importanti, ancora asintomatici, e che sono delle piccole alterazioni a livello della regione maculare. Ecco, e la comparsa eventuale di una degenerazione maculare legata all'età nella sua forma umida, come la potrebbe cogliere il paziente? Da quali segnali? L'accoglie perché il sintomo più precoce è la visione distorta. Improvvisamente, in modo persistente e duratura nel tempo, il paziente da un occhio di solito, perché esordisce di solito inizialmente in un occhio, poi può prendere anche l'altro, tutto ciò che è dritto compare storto, deformato, alterato nella sua forma. Cosa è importante però fare per riconoscerlo? coprirsi un occhio alla volta. Vi sembrerà strano, ma il primo occhio colpito è quello al quale molto spesso si arriva più tardi, perché il paziente non se ne accorge, fin quando magari si prude, si gratta l'occhio buono e quindi solo chiude e improvvisamente dice ho visto una macchia improvvisa che magari ha già da chissà quanti mesi. Perché è importante intervenire subito, professore? Perché l'evoluzione è rapida. Rapida cosa vuol dire? Rapida intendo nel giro di settimane. Quindi dal momento della diagnosi, che è sempre la cosa più difficile a cui arrivare, il trattamento deve essere fatto nel giro di una settimana, dieci giorni. Altrimenti cosa succede? Beh, altrimenti la persistenza dell'essudazione, cioè di questi neovasi che continuano a trassudare fluido sangue, si va a interporre sotto gli stati retinici e gli stati retinici immersi nell'acqua tendono a funzionare male e poi a non funzionare più. Bene, con questi messaggi molto chiari, soprattutto anche con queste raccomandazioni sulla prevenzione, la ringrazio di quello che ci ha raccontato in attesa naturalmente della continua evoluzione anche della scienza oculistica. Grazie a voi. Grazie a voi.